Musica Benvenuti a Scala Ristorante, vi facciamo provare il nostro risotto con zafferano, lime e ghiame di viola di gallicoli Musica Come ingredienti per la realizzazione di questo piatto abbiamo ovviamente il risotto Noi utilizziamo il risotto stagionato 18 mesi, un cannaroli classico Poi utilizziamo il gambero di gallicoli, di uova E altro ingrediente importantissimo è lo zafferano E per concludere, per dare una nota acidula che va a pulire un po' il palato, il lime Che va grattugiato all'interno, in pre e fine preparazione Allora, innanzitutto si va a fare un fondo d'aglio, un aglio fresco tritato Che è la base per tutti i piatti di mare, diciamo, nella nostra cucina tipica salentina Quindi andiamo a fare questo battuto tagliato molto finemente In modo che non sia tanto invadente e ne useremo la minima parte di questo battuto Ok You have my hold, you have my control Love me tender, love me sweet With you I know that I'm complete I'm in love with the summer state For you I'd give my life away Never leave me, never let me go My summer love, be waiting for you Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questo caso dobbiamo aggiungere la sua acqua e qualche pistillo a dare una marcia e più a questo risotto. Aggiungeremo dopo all'occorrenza. A questo punto abbiamo terminato quasi il nostro risotto, aggiungiamo la mantecazione con finito l'olio d'oliva. Aggiungiamo la pasta e pieghiamo sempre il tutto, aggiungendo ancora una grattina di sconsetto di lime. Aggiungeremo. 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 Completiamo con il gambero. gli allivoli anche il pischillo e il zafferano va a decorare il nostro viaggio è pronto grazie a tutti